buongiorno a tutti utenti di alptecnoblog.com siete possessori di questo splendido dispositivo in questo caso stiamo parlando di ipad pro da 12,9 pollici il modello più grande di ipad presentato da apple vi ricordo fin da subito che ho lasciato il link in descrizione del post che spiega passo passo come far ad installare la cover ti ricordo altresì di iscriverti al canale facendo tap sul pulsante rosso vicino al nome del canale qui sotto per rimanere aggiornato sulle ultime novità e guide per sfruttare al massimo il tuo smartphone diamo quindi uno sguardo ai bordi dato che questo ipad non è così semplice o meglio minimalista rispetto agli ipad pro difatti integra due casse come avete visto sopra qua vedete il tasto di volume e nella posizione più bassa troviamo le altre due casse per un totale di 4 pertanto per trovare una cover adeguata bisogna scegliere quella corretta chiaramente il prezzo per quella originale è abbastanza elevato se aggira intorno a una centinaia di euro se non di più quindi si può ripiegare su delle cover standard che comunque sono di ottima qualità e offrono un supporto ottimale al dispositivo vediamo un esempio in questo video ed ecco qui la miglior cover per ipad pro da 12,9 pollici il costo si aggira intorno ad una decina d'euro ma a tutto quello che vi serve interessante la caratteristica che copre sia la parte frontale sia la parte posteriore quindi in caso d'urto l'ipad è protetto quindi apriamo la cover e vediamola meglio da vicino interessante è il magnete che vedremo dopo con l'ipad collocato al suo posto uno sguardo da vicino qua in alto potete vedere la predisposizione per il pulsante del jack e delle casse nella parte posteriore vedete anche qui la predisposizione dei fori per le casse e il foro per il jack o meglio il cavo lightning subito sopra è presente il foro per la fotocamera e ci sta veramente a pennello quindi diamo uno sguardo ancora da vicino materiale molto aderente simile diciamo al poliuretano delle cover apple e dietro una parte in neoprene che copre molto bene quindi inseriamo l'ipad e vediamo come sta basterà aprire lo strato superiore e quindi attenzione a vedere che da che parte inserita l'ipad il cavo lightning deve andare verso il basso in questo caso quindi basterà girarlo e inseriamo il dispositivo appena sentiremo un click significherà che il dispositivo è stato inserito in modo corretto quindi vediamo facciamo pressione col dito ed ecco l'ipad perfettamente saldato alla cover e come vedete è saldato veramente bene quindi facciamo la stessa cosa sull'altro lato facciamo pressione su sui due lati e come vedete perfettamente saldata con la perfezione dei fori sia delle casse sia del cavo lightning proviamo a vederlo nella parte laterale adesso e vedete come il magnete agisce sull'ipad in maniera perfetta adesso non riuscite a vedere ma comunque scatta anche il blocco e quindi lo schermo dell'ipad diventa di colore nero come se fosse bloccato e funziona quindi alla perfezione come la cover originale vediamo quindi uno sguardo ai lati qua il tasto di spegnimento è perfettamente posizionato e qua il jack anche lui al proprio spazio anche la cassa e vediamo nel laterale i due pulsanti del volume più l'alloggiamento del microfono anch'esso perfettamente studiato e adattato al meglio quindi passiamo a vedere se effettivamente la cover è perfetta a questo punto proviamo quindi a vedere se salda e di fatti è molto solida e sarà anche difficile toglierla ho avuto diciamo difficoltà a toglierla dato che la utilizzo da più di un mese ottima qualità parte posteriore aderente al tatto e quindi antiscivolo quindi è difficile difficile che scivoli in questo caso avete visto che è veramente solida e difficile da togliere bene anche questa l'abbiamo fatta se ti è piaciuto il video lascia un bel like e soprattutto iscriviti al canale per vedere le altre guide tecnologiche a presto da eltecnoblog.com vi ricordo che trovate la guida completa e il link del prodotto in descrizione nel post linkato al prossimo video Ciao! 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 Grazie a tutti.